Ben ritrovati a tutti quanti qui nel mio canale, oggi vedremo come rimuovere la cera dai baffi, dopo la sigla. Per rimuovere la cera dai baffi è necessario assolutamente un pettine a denti stretti, quindi un pettinino piccolo tipo questo, e serve un olio rimuovi cera, praticamente un olio wax remover in inglese, e serve proprio per rimuovere la cera. Tra l'altro ha la fragranza di citrus, ed è fantastico. Apro la confezione davanti a voi, faccio vedere subito come si presenta, innanzitutto la confezione di cartone, molto bella, ricorda un pochettino quella di sigari, se così vogliamo dire, e questo è l'olio rimuovi cera, ok, questo qui, vedete? Basta davvero applicarne pochissime gocce, vi faccio vedere. Adesso prendo una metà di misurino e dovrebbe bastare, e vedete già applicandolo, praticamente, pochissime gocce, adesso rimetto giù il misurino, mi munisco del pettine e inizio a rimuovere la cera. Vedete? Pochissime gocce. Vedete come proprio la cera viene completamente rimossa, il pelo viene comunque sia nutrito, viene nutrito, non viene lasciato secco, quindi il pelo rimane morbido, ma soprattutto rimane scollato, quindi si distacca dalla cera, vedete che ritorna in un formato più liquido. Per rimuoverla meglio munirsi sempre di un pezzettino di carta, io faccio così in questa maniera. Comunque sia le dita non rimangono appiccicose, lo dico per correttezza. Vedete come il baffo, vedete, rimane bello morbido, distaccato, completamente pettinabile, al contrario dell'inizio, ovvero che, guardate, senza applicare l'olio, guardate che forza che ha questa cera. E tra l'altro non è neanche una delle più strong, quelle che ho utilizzato, denominata Sudden Death. Vedete? Adesso vado ovviamente a recuperare il misurino, quelle poche gocce che sono rimaste nel contagocce, le applico, così da poter rimuovere in totale sicurezza e scioltezza tutta la cera rimasta dal baffo. Vedete? Basta fare la stessa operazione che ho fatto dall'altro lato e vedete che anche qui pochi secondi e la cera viene via. Guardate come rimane sul pettine, si vede proprio. Sempre un tovagliolino di carta, un pezzo di carta igienica, insomma, quello che avete a portata di mano. Ovviamente, essendo nel bagno, la prima cosa che si ha a portata di mano può essere sicuramente la carta igienica o un fazzoletto di carta. La piega del baffo rimane sempre, quindi lo styling, la forma che gli abbiamo dato resta, ma non è più rigido, quindi è molto ovviamente maleabile, si muove tranquillamente, si può gestire, anche ovviamente dagli una forma, dagli uno stile. Ti raccomando, queste due componenti sono fondamentali se vogliamo andare a districare bene e da rimuovere completamente la cera dai nostri baffoni. Grazie a tutti i nostri baffoni.